... Mister, questi sono tre punti d'oro, abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nel secondo tempo, come ha detto anche Scamacca, i suoi ragazzi sono tornati in campo col sangue agli occhi ed è arrivata questa rete che può cambiare, come ha detto ieri lei in conferenza stampa, il corso della nostra stagione? Ma sì, questa partita era determinante vincerla per tanti motivi, per motivi di classifica e soprattutto quando si arriva da due buone prestazioni e si porta a casa poco, subentra la paura la paura che c'è stata al primo tempo, sapevamo che Cittadella ha queste caratteristiche, che ti viene a pressare anche il portiere e lo fa con grande continuità ci aspettavamo questo, però io oggi penso che siamo andati in campo molto tesi, molto contratti, anche a livello tecnico al primo tempo abbiamo sbagliato tantissimo, tante sponde insomma io credo che siamo stati però bravi a non subire gol e al primo tempo ragazzi ho giustamente detto questo, perché era impensabile che il secondo tempo a Cittadella mantenesse questo ritmo nel secondo tempo invece ci siamo sciolte, abbiamo messo in campo un carattere diverso, un animo diverso, una voglia di vincere completamente diversa potevamo anche raddoppiare su un gol regolare, abbiamo subito praticamente nulla e queste partite vincere veramente non è facile perché Cittadella è una squadra che fuori casa non aveva mai perso quindi aveva messo in difficoltà chiunque e per questo prima della partita sapevo l'importanza di questa gara Ha parlato dell'arbitro, il suo collega Venturato ha detto che è stata una gara decisa dagli episodi arbitrali che il gol dell'Ascoli è nato da un doppio fuorigioco di Ardevagne e Berlec e ha detto anche che c'era un rigore per il Cittadella per farlo su Rosafio e evidentemente non sappiamo perché abbia deciso di esprimersi in tal senso però lei come la vede? Non ho molto da dire se no che per noi c'era un gol regolare non dato e quindi per il Cittadella 2-0 al di là degli aspetti arbitrali io non uso parlarne nemmeno quando perdo e quando subisco preferisco sempre parlare della mia squadra ogni allenatore fa le sue considerazioni ed è libero di farlo io credo che oggi per il secondo tempo che ha fatto l'Ascoli abbia meritato di vincere questa partita e non ha subito praticamente nulla al primo tempo il Cittadella ha giocato una grande partita e gli do merito umilmente credo che oggi l'arbitro incida veramente poco Tatticamente oggi ha riproposto Troiano in cabina di regia dopo tre gare con Petrucci sta ancora trovando la quadratura giusta lì in mezzo? No no, oggi è stata una scelta ben mirata non per merito di Petrucci ma perché guardando le partite da Cittadella ho visto che loro sono bravissimi ad andare a chiudere le fonti di gioco e giocano a uomo sul regista e quindi secondo me Petrucci oggi per caratteristiche sarebbe andato un po' in difficoltà e ho preferito puntare su altre caratteristiche che a Troiano perché a livello di interdizione credo che Troiano sia un giocatore veramente bravo e anche sulle palle esterne è una squadra che crossa molto e Michele è molto bravo ad entrare dentro la linea e oggi ha salvato tantissime palle oltre all'aspetto dell'esperienza che in queste partite delicate secondo me ha una sua valenza quindi non è un demarito per Petrucci è stata una scelta mirata per la partita che ci può stare e credo che alla fine sia andata bene così perché Michele ha fatto un'ottima partita Una vittoria in stile Costantino Rozzi avete onorato al massimo il Presidentissimo con sofferenza nel primo tempo ma con grande grinta e caparbietà nella ripresa Sì, ci tenevamo a dare una gioia in tanti nostri tifosi e soprattutto a essere degni di una giornata del genere il primo tempo secondo me lo siamo stati poco e infatti fino al primo tempo mi sono arrabbiato molto e c'è stato qualche mugugna, qualche fischio e credo che sia stato giusto perché noi ci siamo meritati questi fischi oggi, il primo tempo mentre nel secondo tempo ci siamo meritati gli applausi e noi dobbiamo sempre fare in modo di trascinare il pubblico dalla nostra parte siamo noi che decidiamo con l'atteggiamento al di là del risultato che tipo di partita vogliamo fare nel primo tempo abbiamo fatto una partita con un atteggiamento impaurito, con un atteggiamento non da Ascoli mentre nel secondo tempo abbiamo fatto una gara da Ascoli e credo che anche oggi Costantino Rozzi potrebbe essere orgoglioso del nostro secondo tempo